Cultura, gastronomia, tutti gli appuntamenti di Weekend da Scoprire. A Veroli, dal 7 al 9 di luglio, nel centro storico, appuntamento con la diciottesima edizione di Ernica Etnica, rassegna nazionale di musica della tradizione popolare italiana. A Castrocello, dal 7 al 9, presso il Monacato di Villa Euchelia, l'associazione Eco-Orchestra organizza l'undicesima edizione del Festival Internazionale della Chitarra. Venerdì 7, apposta a Fibreno, alle 21 in Piazza Municipio, appuntamento con la settima edizione di Liro Opera Festival. A Pescassero, di sabato 8, in provincia dell'Aquila, alle 17.30 si svolgerà la trentesima edizione della Eco-Longa, gara podistica interregionale di 13,2 km. Sempre sabato, ad Alvito, alle 18.30 nella chiesa di San Simeone, appuntamento con la quinta rassegna di Canto Corale, città di Alvito. Ad Alatri, invece, sabato, alle 19, nel centro storico, si terrà la Corsa Amici del Cuore, gara podistica di 8 km. A San D'Ambrogio sul Garigliano, alle 20.30, nel centro storico, l'associazione insieme organizza la quinta edizione della passeggiata gastronomica nel centro storico, con degustazione di piatti tipici locali e tanta musica. A Pofi, sabato e domenica, presso il Campo Sportivo, si svolgerà il Reggae Festival 2017, con stand gastronomici, mercatini ed artisti di strada. Un appuntamento che si rinnova da nove anni, grazie alla PRS Crew, formata da uno gruppo di ragazzi locali. I concerti, sabato, Brusco e Roots in the Sky, Miora Valfreetown e Silou, domenica, Reggae Circus di Adriano Bono e Amalgam Roots. Domenica 9, a Corena Osoneo, in località Ballaura Piccola, appuntamento con il concerto commemorativo sulla linea Gustav di Alessandro Parente ed il Giardino della Pietra Fiorita. Per inviare le vostre segnalazioni, chiamate al numero 0776 72 8035. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.